cari amici produttori conoscete i libri parlanti di geronimo stilton sono le mie avventure più belle raccontate dalla vera voce della stratopica famiglia stilton e dei suoi simpatici amici buon ascolto nella pizarra valle di vampiri vanitosi e pizarro castello nella pizarra famiglia teneb arx a quante brevidose risate con gli scherzi di nonno frankenstein e quante vizzare avventure che aspettano tra mummia misteriosi e canarini mannari e fantasmini burloni